Musica Covid boom di contagio ad Ancona nelle marche balzo della saturazione in area medica e superati due parametri su tre per Acquaroli è una fase di picco della pandemia o un trend che rischia di trasformare il colore della regione Il caro vita pesa sugli acquisti di Natale italiani frenati dal caro bollette dall'aumento dei costi delle materie prime ma c'è anche chi invece non bada a spese per amici e familiari I regali di Natale li facciamo anche se sono aumentate le spese però Natale è Natale 31 chilometri di strade 53 vie coinvolte partiranno a primavera i lavori di asfaltatura nel comune di Fano con un piano da 3 milioni e 700 mila euro L'asi dell'accoglienza inaugura una targa in memoria della benefattrice Meuccia Severi Salvaterra pioniera dell'imprenditoria femminile e donna dalla grande generosità La festa dell'immacolata si accende con gli eventi del Natale che non ti aspetti sul sito ufficiale il Vademecum con le nuove norme anti-covid e i tipi di Green Pass per accedere alle varie iniziative Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV questa è Occhio alla Notizia come avete sentito dai nostri titoli l'aumento del costo della vita ma anche il caro bollette rischiano di andare a incidere e non poco sull'acquisto dei regali di Natale se da un lato le associazioni di categoria parlano di un calo di fiducia generale delle famiglie dall'altro tra i cittadini emerge una divisione tra chi non ne farà alcuno e chi invece conferma il trend dello scorso anno cioè regali per tutti in servizio di Angelica Panzieri L'inflazione si mangia i regali di Natale quest'anno sotto l'albero si avverte il peso del caro bollette e in generale dell'aumento del costo della vita per i regali di Natale si spenderanno 160 euro a testa è il quadro che emerge da un'analisi dell'ufficio di studi di Confcommercio dedicata alle tredicesime e ai consumi di dicembre se da un lato l'associazione di categoria parla di un calo di fiducia generale da parte delle famiglie che si potrebbe tradurre nella riduzione delle spese della tredicesima tradizionalmente destinata ai regali di Natale dall'altro dal nostro tour tra i cittadini emerge una divisione generale tra chi quest'anno non farà nessun acquisto e chi invece si è portato avanti e addirittura già finito di fare tutti i regali noi pensionati compriamo poco dobbiamo fare il regalo ai figli e loro comprano anche troppo forse ma io personalmente compro poche niente il minimo è indispensabile al mio figlio penserò qualche regalo il Natale dà un po' voglia di fare qualche spesa ulteriore io non ho mai fatto regale di Natale perché non è nel mio DNA perciò quest'anno sarà come tutti gli altri anni i regali di Natale li facciamo anche se sono aumentate le spese però Natale è Natale questo aumento del costo della vita ti preoccupa oppure no? è un po' sì un po' sì a lungo andare magari sì però adesso adesso è Natale quindi pensiamo ai regali e basta Natale è Natale quindi i regali vanno fatti bisogna stare un po' più attenti quindi cercare qualche sconto qualche convenienza però sì i regali si fanno è riuscita già a comprarne qualcuno oppure ancora deve iniziare? sì un paio di regali l'ho già fatti per fortuna col Black Friday ho approfittato di qualche sconto però ne mancano ancora tanti farò senz'altro dei regali ai nipoti al marito qualche amica adesso non ci ho ancora pensato quindi non ha iniziato ancora no non è preoccupata dell'aumento del costo della vita li farà lo stesso? noi pensionati ci regoliamo e per chi non ha le entrate fisse è un problema sono un medico per cui ho da andare a curare i positivi del Covid i regali sono l'ultima cosa magari non si fanno dei grossissimi regali si fanno dei pensierini però è una tradizione che va rispettata sono 411 positivi al Covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche con un boom di contagi nella provincia di Ancona dove se ne contano 193 la fascia di età più colpita è quella dei 25-44 anni secondo i dati dell'osservatorio epidemiologico della regione il 72% dei degenti in terapia intensiva non è vaccinato il 28% si è sottoposto alla profilassi mentre in area medica il 59% dei pazienti non è vaccinato il 41% lo è inoltre in una settimana le classi in quarantena sono passate da 145 a 227 le più colpite sono quelle delle scuole elementari la curva pandemica ha rallentato la sua corsa ma comunque è stabilmente alta un dato importante è l'aumento di ricoveri ospedalieri soprattutto in area medica lo ha riferito rispondendo oggi ai giornalisti il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli è necessario fare attenzione aggiunto e bisogna capire se è la risposta di alcune fasi di picco della pandemia delle scorse settimane oppure se è un trend che rischia di trasformare nelle prossime settimane il colore della regione intanto due parametri su tre sono stati superati l'incidenza su 100.000 abitanti e la capienza delle strutture ospedaliere per ospitare eventuali pazienti in terapia intensiva o in area medica la cronaca i vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in via Breccia a Loreto per l'incendio di tre autovetture parcheggiate in un capanno sul posto la squadra di Osimo con il supporto del personale della sede centrale di Ancona i pompieri sono riusciti a salvare solo uno dei mezzi coinvolti sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dal robo torniamo a Fano dove dalla prossima primavera partiranno i lavori di asfaltature in più di 50 vie la giunta comunale di Fano ha approvato il progetto definitivo del piano asfalti l'intento è quello di pubblicare la gara di appalto entro la fine dell'anno per aprire i cantieri nella primavera del 2022 lo ha annunciato questa mattina l'assessore alla viabilità Fabio Latonelli che ha illustrato l'intervento da 3.700.000 euro risorse che arrivano dal bilancio comunale saranno interventi massicci e massivi in tantissime zone della città andremo a dare una risposta a tutte le istanze dei cittadini che in questo periodo ci hanno contattato per appunto delle criticità in molti quartieri anche e soprattutto nelle zone periferiche andremo a intervenire in maniera omogenea in alcuni quartieri faccio l'esempio di Ponte Sasso continueremo le asfaltature qui a Sant'Orso nella zona vecchia di Sant'Orso e ci sposteremo anche nella zona di Montegiove del Prelato e ci concentreremo nei mesi più caldi quindi da primavera fino alla fine dell'estate cercando di appunto fare tutti questi interventi nel più breve tempo possibile chiederemo la dita di dare meno problemi alla viabilità sempre mettendo al primo posto la sicurezza stradale quindi questi interventi daranno una risposta a tutti i veicoli automobilisti ciclisti che in questo momento in alcune zone ci sono molte difficoltà a percorrere infatti alcuni lavori erano attesi da tempo ha precisato l'assessore e riguardano 53 vie per un totale di 31 km lineari soprattutto nella zona periferica appunto per dare una risposta in queste zone dove ci sono alcune criticità ma anche alcune nella zona più turistica come per esempio a Lido nei controviali le Cairoli piuttosto che alcune vie nella zona turistica di Ponte Sasso torniamo a parlare della messa in sicurezza della parete rocciosa al furlo perché dopo numerosi incontri con tutti gli enti interessati è stato deciso di stilare un protocollo di intesa come ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Stefano Guzzi Enel finanzierà il 60% dell'intervento pari a 240.000 euro e dovrà individuare una propria ditta incaricata di eseguire l'intervento la regione metterà 100.000 euro la provincia di Pesero Urbino e il comune di Fermignano stanzeranno 30.000 euro a testa Enel partirà con i lavori all'inizio del prossimo anno e dentro marzo si potrà concludere l'intervento e riaprire la strada o niente coinvolto metterà a disposizione il personale tecnico utile all'acquisizione delle autorizzazioni alla direzione dei lavori e al collaudo delle opere una targa in memoria della benefattrice l'Oasi dell'Accoglienza ha voluto ricordare e omaggiare così la signora Meuccia Severi Salvaterra che tanto ha fatto per il centro di Sant'Andrea in Billis da molti considerata una grande imprenditrice del pesarese Meuccia Severi Salvaterra non era solo una pioniera del settore del tessile abbigliamento perché è stata anche una collezionista raffinata un'appassionata dell'arte e soprattutto una donna generosa e sensibile arrivata da Carpi intorno agli anni 50 e specializzata nella produzione di maglieria di pregio Meuccia è morta nel settembre 2019 all'età di 97 anni il suo ricordo però è ancora vivo in tutte quelle realtà che con estrema riservatezza lei ha aiutato tra queste l'Oasi dell'Accoglienza Ollus che accoglie gratuitamente malati di talassemia leucemia e altre patologie con necessità di trapianto di midollo osseo e terapie intensive in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno ha spiegato la fondatrice Maria Chiera abbiamo voluto ricordare la nostra benefattrice con una targa un applauso proprio lei donna di grande attenzione agli ultimi oltre ad essere una delle più grandi imprenditrici italiane ha voluto direi aiutarci a salvare l'Oasi e a continuare nella nostra opera di accoglienza noi crediamo fermamente che continuerà ad assisterci costantemente durante l'inaugurazione Maria Chiera ha poi ricordato l'importante appuntamento del 2022 il trentesimo compleanno dell'Oasi dell'Accoglienza Nel mese di giugno faremo un momento di festa percorrendo questi trent'anni di lavoro di accoglienza di impegno insieme a tutti i volontari perché vorrei ricordare che l'Oasi dell'Accoglienza vive solo grazie alle donazioni gratuite e ai volontari che prestano il loro servizio gratuitamente l'essere umano come diceva Madre Teresa siamo solo degli strumenti nelle mani di Dio che gestisce le cose come vuole quando vuole e allora noi diciamo grazie Signore perché ancora oggi ci usi e auguriamo a tutti un sereno prossimo Natale all'insegna proprio della generosità di se stessi soprattutto Riparte in presenza nella sala ipogea della Mediateca Montanari Meimo la rassegna con le parole giuste le parole della giustizia nella filosofia nella letteratura nella società l'undicesima edizione dedicata al concetto di metamorfosi per la necessità di un cambiamento nella mentalità e nel comportamento delle persone tra i temi che verranno affrontati la sicurezza sul lavoro il cambiamento climatico l'inclusione e il linguaggio si parte venerdì 17 dicembre alle 18 con l'incontro dal titolo sicurezza con Bruno Giordano magistrato e direttore capo dell'ispettorato nazionale del lavoro a dialogo con il magistrato Francesco Messina cambiamo argomento il consigliere comunale di Pesore Emanuele Gambini orafo di professione ha presentato il suo nuovo libro fotografico dal titolo Manu 5.0 che racconta attraverso le immagini la sua storia di atleta ma anche di uomo rinato dopo un incidente che lo ha visto coinvolto otto anni fa il ricavato andrà devoluto ad una fondazione che si occupa di persone con disabilità il consigliere comunale di Pesore Emanuele Gambini presenta Manu 5.0 il suo nuovo libro fotografico che racconta attraverso una serie di immagini di cui è protagonista la sua storia di atleta e di uomo rinato dopo l'incidente del 2013 5.0 per rimarcare l'età del super campione sportivo protagonista di tantissime imprese nel mondo dello sport tutte coronate dal successo atletica triathlon nuoto tutto ciò con lo sguardo rivolto alla solidarietà poiché il ricavato andrà devoluto alla fondazione Noi Domani realtà pesarese che si occupa di persone con diverse disabilità e che assiste ogni giorno oltre 2000 famiglie e persone disabili del territorio è nato un anno e mezzo fa per diciamo celebrare un po' i miei risultati sportivi e poi durante questo anno e mezzo di covid purtroppo la mia decisione è stata quella di non pubblicare il libro con una casa editrice ma di poter fare qualcosa per chi ha bisogno di fare di avere questo libro avrà uno scopo di solidarietà comunque uno scopo per aiutare qualcuno quindi ho deciso di mettere il libro a 10 euro di devolvere tutto alla fondazione Noi Domani nel libro c'è tutta la parte che riguarda gli allenamenti la parte che porta poi alla gara un piccolo gesto che può fare la differenza per tante persone che dimostrano quotidianamente la loro forza come ha sottolineato la stessa presidente della fondazione Noi Domani Emanuela Angelini con il suo libro il cui ricavato devolverà la fondazione potremo portare avanti quelli che sono i nostri progetti i progetti di fondazione Noi Domani fondazione Noi Domani è una fondazione giovane pesarese questi progetti di autonomia per il dopo di noi cioè quando noi perché io sono una mamma noi come famiglie non ci saremo più questi progetti di autonomia sono costosi abbiamo grandi idee grandi obiettivi quindi la solidarietà di tutti ci serve e ringraziamo chiunque come Emanuele con il suo libro ci possa aiutare Sono stati circa 25.000 i visitatori dei 100 eventi organizzati nei 25 comuni aderenti al Natale che non ti aspetti le iniziative proseguiranno anche nella giornata di domani e il presidente Damiano Bartocet ti annuncia un vademecum con le nuove norme anti-covid e le tipologie di green pass per l'accesso ad alcune manifestazioni o alle singole iniziative delle proloco l'atmosfera di Natale nello scorso fine settimana è stata registrata una grande partecipazione Sì con grande emozione e anche con grande fatica però diciamo che possiamo riscontrare circa nelle due giornate almeno 25.000 presenze sia turismo di prossimità quindi turismo che proviene dalla regione ma tanti tanti turisti da tutta Italia insomma vedere riconosciuti oramai diciamo che siamo riconosciuti come il mercatino i mercatini più importanti del centro Italia perché da nord a sud vediamo veramente tanti pullman tanti turisti tanti camperisti tante famiglie venire nei nostri mercatini nelle nostre manifestazioni che poi non sono solo mercatini e io credo che possiamo dire che con la rete del Natale che non ti aspetti stiamo componendo un puzzle perché ogni mercatino ha la propria peculiarità ogni proloco ogni borgo ha la propria peculiarità e ci sono cose differenti da un borgo all'altro quindi questo credo che ci rende sempre di più attrattivi nel tempo e non a caso siamo con Bolzano in accordo per firmare un gemellaggio tra le due località cioè tra il comitato proloco Pesaro Urbino e l'azienda di soggiorno di Bolzano per firmare un protocollo d'intesa e di collaborazione tra i due mercatini che sono i mercatini più importanti d'Italia ma c'è anche un'altra sorpresa che annuncia il presidente del proloco Damiano Bartocetti infatti grazie al contributo e alla collaborazione con la regione Marche domani al castello di Frontone verrà presentato il testimonial del Natale che non ti aspetti con la massima attenzione alla salute e nel rispetto delle normative sanitarie ha poi aggiunto Bartocetti stiamo tornando a vivere le feste come tradizione e costruire opportunità di lavoro per tante piccole imprese del territorio grazie alle centinaia di volontari che lavorano costantemente per garantire le più belle atmosfere natalizie invece con l'entrata in vigore del Super Green Pass hai cambiato qualcosa? qualcosina cose da poco comunque troverete tutto nel nostro sito oggi verrà caricato dai nostri consiglieri tutto un vademecum rispettivo a ogni località perché ogni località avrà la sua differenzazione non tanto per la legge ma per il tipo di evento se l'evento è circoscritto ci sarà il controllo specifico sul Green Pass se l'evento è al chiuso ci sarà il Super Green Pass e se parliamo di evento all'aperto e non circoscritto è obbligatorio avere il Green Pass ma non ci sarà il controllo all'ingresso e comunque raccomandiamo a tutti sempre questa è una nostra raccomandazione di mantenere la mascherina anche nei luoghi all'aperto dove c'è l'affollamento perché è importante proteggiamo noi e proteggiamo gli altri e tutti gli eventi del Natale che non ti aspetti previsti per domani li trovate anche su sito occhioallanotizia.it adesso una comunicazione vi ricordiamo che da domani 8 dicembre fino alla fine dell'anno torna alla scoperta dei presepi il concorso dedicato ai presepisti delle Marche per partecipare è necessario inviare un breve video di circa 20 secondi oppure tre fotografie all'indirizzo mail presepi chiocciolafanotv.it meglio se in questi ritratti c'è anche l'autore dell'opera tra poco invece trasmetteremo la quinta puntata dell'appetito vi è mangiando dedicata alla polenta coi fagioli l'informazione invece torna giovedì mattina non domani perché è la festa dell'immacolata e quindi l'appuntamento è previsto per le ore 7 in diretta con la lettura dei giornali insieme a Massimo Foghetti buona serata a tutti grazie a tutti